Decifrato il codice segreto dello spacciatore, il market della droga è offline. È successo a Volpiano, dove i carabinieri della stazione di Leny hanno eseguito un controllo a casa di un italiano di 28 anni di Volpiano, sospettato di gestire la vendita online di droga, ma anche a casa e davanti al bar di famiglia. L'attività investigativa dei militari dell'arma ha consentito loro di trovare a casa sua oltre due chili di marijuana, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e 665 euro. I carabinieri sono arrivati sulle tracce del pusher dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dai residenti della zona. Lo spacciatore riceveva gli ordini tramite WhatsApp, frutta sortita e abbonamenti TV e poi provvedeva personalmente alle consegne, oppure i clienti passavano dal bar che gestisce con la sorella Chivasso. Con l'emergenza Covid e con il bar chiuso, il pusher aveva aumentato le vendite tramite WhatsApp e aveva avviato le consegne a domicilio. La perquisizione della macchina ha permesso di sequestrare anche una mazza da baseball che costa talmente ottenne una denuncia con il possesso di armi.